Sono Mario Goretti, Agomir S.P.A. di Lecco. Sono formalmente l'amministratore delegato di Agomir. Agomir è un'azienda che si occupa di informatica, fa parte del gruppo GR Informatica di Lecco appunto. Fondato nel 1981 da mio padre, principalmente ci occupiamo della produzione di software gestionali, quindi soluzioni in ambito IRP, documentale, CRM, manutenzione degli impianti e anche di sistemi e networking. Ma GeneXus è uno degli strumenti di sviluppo che abbiamo. Oggigiorno posso dire che è lo strumento principale. Quindi su GeneXus noi, come ho detto, abbiamo investito molto e investiremo ancora di più nei prossimi anni. Abbiamo realizzato sostanzialmente tre linee di prodotto, una gestione documentale di processi, quindi archiviazione, workflow e tutto quello che può essere la digitalizzazione dei documenti in azienda. Una soluzione che si occupa di manutenzione degli impianti, quindi Enterprise Asset Management, per tutta quella che sono appunto le attività di intervento, manutenzione su guasto, programmata, predittiva, eccetera. E poi, non da ultimo, il progetto più importante che è il nuovo gestionale, il nuovo IRP di Agomir, oggi rilasciato nella prima versione su piattaforma Java Web e che pian piano andrà a prendere quote di mercato che oggi gestiamo con un altro gestionale. La trasformazione digitale è assolutamente un processo da sempre in corsa. Poi oggi si trovano slogan marketing adatti a quelle che sono le stagioni dell'informatica. La trasformazione digitale è appunto un processo che le persone, la società, le imprese vivono quotidianamente e che porterà, se ben gestita, dei grossi benefici a quello che è la conoscenza, a quello che è il nostro patrimonio principale, che è il condividere le informazioni, condividere le esperienze, riuscire in generale a vivere meglio. Sicuramente una gestione dei progetti molto focalizzata, veloce, pulita, con una gestione degli impatti nel tempo sicuramente sotto controllo e la possibilità di andare a deployare la soluzione su più piattaforme che rappresenta sicuramente un valore aggiunto nella proposta che possiamo portare sul mercato. Il fatto che appunto permette di andare a gestire soluzioni multiplattaforma, quindi con diversi application server, con diversi database, sicuramente il fatto che il produttore di GeneXus è sempre a passo con i tempi senza mai accelerare le tecnologie, le ha sempre assorbite con intelligenza, quindi oggi per esempio mobile, cloud, internet of things, user experience, sono temi che si vedono negli sviluppi della casa madre e questo fa molto piacere a chi adotta lo strumento, ma senza quell'esagerazione di andare a fare tutto subito, con il giusto passo ed è una cosa che ci è sempre piaciuta del mondo GeneXus. Perché ritengo che sia uno strumento che permetta di sviluppare soluzioni in modo pulito, in modo molto concentrato sui dati, sul modello dei dati, su quello che realmente serve in quel momento, con i giusti vincoli che permettono anche di essere creativi, ma al tempo stesso molto focalizzati sul risultato finale utile all'utente.